Dopo quasi un anno dallo stop ai lavori è pronto a ripartire il cantiere per il completamento degli interventi di riqualificazione in via Marina. A pochi giorni dall'affidamento del Comune alla nuova ditta giudicataria si opera per la messa in sicurezza dell'aria con il ripristino di recinzioni e segnaletica e cominceranno a breve con la stipula del contratto anche i lavori che prevedono la riapertura dell'esercizio tramviario e la sistemazione della sede stradale dei marciapiedi. Stiamo sul cantiere, è il primo giorno che l'impresa sta riprendendo la cantierizzazione, rimettendo in sicurezza per queste aree. Ricordo che l'affidamento è avvenuto soltanto all'impresa, l'accettazione dell'impresa è avvenuta soltanto qualche giorno fa. In questa prima fase il primo problema che stiamo affrontando è quello di mettere in sicurezza per tutte le aree di cantieri, procedere alla ricantierizzazione delle aree che in questo periodo sono state danneggiate e poi subito o dopo arriveremo celermente a fare tutto quello che rimane da fare, dando grande priorità al ritorno del tram su quest'asse di aria atteso da parecchio tempo. Una buona giornata, le cose sono ripartite, stiamo andando avanti.